Ciao ragazze, nuovo video, video in cui vi mostro dei cataloghi, ma dei cataloghi non diamo come avrete letto dal titolo, ma di FM. Per chi mi segue anche su Facebook sa che sono entrata a far parte anche del mondo FM. Ho deciso di intraprendere anche questa avventura perché comunque sono sempre soldini che possono entrare nelle mie tasche e fanno sempre comodo. Per chi mi conosce da un po' di tempo sa che faccio 2500 lavori. Sono tanti, io vi dico, ieri sera quando sono andata a questo incontro FM, mentre mi parlavano io ero lì che andavo giù con la testa perché veramente arrivo la sera che sono distrutta. Però in questo periodo in cui non c'è lavoro bisogna arrangiarsi e io voglio fare di tutto per guadagnare qualcosina, per potermi mettere qualcosina da parte per un futuro. E siccome le spese sono tante, un po' perché voglio aiutare mia mamma con la spesa e le bollette un po' comunque per qualche sfizio mio i soldini ci vogliono e quindi faccio il più possibile diciamo così per appunto non andare mai sotto di soldi. Ecco, quindi partiamo subito con i cataloghi FM. I cataloghi sono tre, per tre diverse categorie, sono questi qua. Chi conosce FM ovviamente lo sa, per chi non lo conosce appunto i cataloghi sono tre. Uno per la casa, che è questo qui. Uno per il make up, che è questo. E uno solo di profumi, che è questo qui. Al contrario di Avon, FM ha questi tre cataloghi e basta. Non li cambia ogni campagna come Avon. Rimangono gli stessi per un anno. Quindi è anche una cosa comoda, perché non bisogna stare lì ogni campagna a comunque comprare dei cataloghi. Cosa che a me non piace di Avon. È una delle poche cose che di Avon non mi piace appunto, che noi presentatrici dobbiamo comprare i cataloghi. Quindi, secondo me, dovrebbero darceli loro, visto che comunque sono cose che a noi servono appunto per vendere. Quindi, vando alle ciance, iniziamo subito. Spero di non fare un video lungo come al solito, cercherò di farlo il più breve possibile, anche se sono sicura già che non ci riuscirò, visto che sto continuando a blaterare. Comunque, da cosa iniziamo? Make up a casa o profumi? Si accettano consigli. Non li sento. Vabbè, il primo che ho qui è quello dei profumi, che appunto io FM la conoscevo poco, non ho mai usato prodotti FM, sono sincera. La conoscevo solo appunto per i profumi, io ero convinta di farci solo profumi, invece ci sono altri due cataloghi di altre cose. Comunque, iniziamo subito. Ci sono tantissimi, tantissimi profumi. Allora, innanzitutto questo è la copertina del catalogo. Allora, ovviamente non ci sono solo profumi, ma ci sono anche creme. Qua ci sono le creme per il viso, che sono queste qui. E vengono 19,90 euro, tranne una che è un siero e viene 21,40 euro. Sono queste qui. Ho provato a fare le foto, ma essendo che il catalogo rimane così, quindi le foto non vengono bene. Ho provato a scannerizzarle, il computer non me le legge. Sono in crisi, quindi vabbè, spero che nel video venga bene. Comunque, se poi avete delle domande, chiedetemelo e vi risponderò. Poi, ci sono le creme per il corpo, le creme anticellulite, le creme per le mani, che sono queste qui. E vengono, allora, la crema per il corpo idratante 19,90 euro. Crema corpo anticellulite 20,90 euro. Crema mani ad azione rigenerante nutriente 18,90 euro. Crema mani ad azione idratante levigante 18,90 euro. E appunto sono queste qua. Poi partono i profumi, ci sono questi, che sono dei 30 ml a 22,50 euro. FM, non l'ho detto, ma propone profumi di marca, che ovviamente in un negozio, in una profumeria, si pagherebbero magari tra i 50 e i 100 euro. Qua li propone al massimo a 32, 34 euro, adesso non mi ricordo bene. Sono entrata solo ieri sera, scusatemi. Qua, infatti, abbiamo lo puscolino con Marilyn Monroe, in cui ci mostra il nome che la fragranza ha sul catalogo di FM e la rispettiva marca che si trova in profumeria. Abbiamo il Givenchy, Gucci, Armani, Dior, La Colocombe, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, eccetera, eccetera. Li abbiamo tutti. E appunto qua ci sono. Le fragranze sono identiche, sono veramente identiche. Io ho avuto la possibilità appunto di testarlo e di sentire le profumazioni, sono veramente uguali. Appunto, FM le propone ad un prezzo inferiore perché? Perché non si paga il marchio dello stilista famoso. E poi per una serie di altre cose, che se volete vi spiegherò meglio in un video a parte. Se volete appunto che vi faccia questo video, scrivetemi un commentino qua sotto. Appunto, questi sono alcuni dei profumi, che adesso mi mostro abbastanza velocemente. Le confezioni sono molto 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 carine. I profumi si dividono in... aspettate... Che non mi ricordo. Allora, se riesco ad aprire il fascicoletto. Ce l'ho fatta, ok. Un classici e di lusso. Ovviamente quelli di lusso costano un pochino di più, ma non si va oltre i 35 euro, diciamo così. Cosa che in un negozio normale superereste i 100. Vedete, comunque le confezioni sono veramente molto molto carine. Poi ci sono questi. Questi qua. Questi. Forse se facevo un video in cui mostravo solo il catalogo e non mi mostravo io veniva più facile. Però non ho il cavalletto. Mi si sono rotti tutti e due. Ho solo il cavalletto professionale, ma non riesco a... Fare in modo che becchi il tavolo. Poi ci sono questi. Questi qua. Ad esempio questi sono 23 euro. Questi qua. Vedete le... Le boccette sono veramente molto molto carine. Questi. Poi ovviamente ci sono sia da uomo che da donna. E ci sono anche per i bambini. Cosa molto carina. Ovviamente tutti firmati FM. Che appunto è il nostro marchio che per quello appunto non pagate... Non paghereste fior fior di quattrini per un profumo. Questi qua. Questi. Questi. Qua. Questi ci sono quelli con i packaging un po' più sentici, classici e alcuni un po' più elaborati. Questo ad esempio, vedete, è la classica boccettina molto semplice. Ci sono questa che è un pochino più elegante. Qua, questo è un profumo per i capelli. 7,70 euro. E poi qua ci sono i deodoranti, le creme profumate per il corpo, i doccia schiuma e la crema profumata. Vedete i deodoranti, poi ci sono le creme e i doccia schiuma. Ah, questa è una crema profumata per mani e unghie. Questa qui. Quindi, anche le unghie profumate, se possono avere questa mia nuova, non la sapevo. E poi appunto qua ci sono altre creme e deodoranti. E qua c'è la linea per i piccoli. Che c'è uno, questo è uno shampoo e delle pastiglie effervescenti da bagno. Shampoo e pastiglie. Poi qua ci sono altri profumi. Questi qua. Erano per bambini quelli là. E poi qua c'è la collezione spa. Pacciuoli. Non so cosa sia, pacciuoli. Poi ci sono quelli per i peeling, i burri per il corpo e la verbena. Questi qua. Anche i packaging sono molto carini. E vanno dai 14,10 euro ai 15,90 euro. Poi qua ci sono i sali da bagno, i geldo e i gel doccia. Sali da bagno e i gel doccia. Sempre della linea spa. E qua ci sono le candele. Ci sono diverse profumazioni. Qua ci sono dei saponi, delle mousse e degli scrub. Guardate questo sapone, a me sembra tantissimo una torta, quindi niente da mangiarlo. Qua c'è un burro naturale per il corpo, a caldo. E una crema viso effetto matte. Questi qua. Poi qua abbiamo crema corpo e sapone naturale. Qua balsamo per capelli fini e privi di volume. Shampoo per capelli fini e privi di volume è sempre uguale. Cambia la grandezza, uno è 150, l'altro è 200 ml. E balsamo per capelli normali. Questi qua. Qua abbiamo balsamo per capelli secchi e danneggiati. Shampoo uomo e shampoo antiforfora. Questi qua. Qua ci sono dei gel rinfrescanti, peeling, antitraspirante e crema... C'è la pancia. Crema a idratazione profonda. Questi qua. Ok, poi ho detto peeling, ma... Perché qua c'è solo peeling, ma alla fine è uno scrub. E poi in fondo mostra tutto ciò che c'è in catalogo, però in più piccolo e più veloce, semplicemente con i vari prezzi. E questo è il catalogo, appunto, dei profumi. Ce ne sono tantissimi e sono veramente buoni. Ovviamente perché hanno le profumazioni dei grandi stilisti che magari, se siete come me, che non me li posso permettere, usando questi di FM ci posso arrivare. Per comunque 15 euro così li posso spendere. Poi passiamo al catalogo make-up che sono... Ieri sera andato sono dei prodotti ottimi. I mascara sono privi di siliconi. Le matite per gli occhi, anche da rimetterla, sono minerali e waterproof. Quindi sono adatte a chi come me ha gli occhi che lacrimano tantissimo. Qualsiasi cosa ci sia nell'aria, i miei occhi lacrimano e quindi sono adatte. Costano un po' perché alcuni prodotti costicchiano davvero. Però io, essendo che sono entrata ieri, non posso dirvi se sono buoni o no. Non posso dirvi per sentito dire che sono buoni. Comunque iniziamo subito. Questo è il catalogo make-up che mi fa un po' concorrenza con Amon. Però io ho deciso che questo qui, vabbè, ve lo mostro ovviamente, come lo mostrerò anche alle mie clienti. Però tenderò a mostrare di più quello sui profumi e per la casa, in modo che col make-up non mi faccia concorrenza con Amon. Allora, iniziamo subito, che se no appunto ci stiamo dilungando tantissimo. Cici Cream Color e Care. Cici, non l'ho mai sentita. L'ho sentita la BB, ma non la CC. BB, CC, e vai. Mimi e Coco, vai. Comunque, CC Cream Color e Care. 15,70€. Ed è questa qui. I packaging, devo dire, sono molto belli. Sono eleganti. Ci sono due colorazioni. Un Genius Nude e uno Smart Beige. Questi qua. Idrata, nutre, maschera alle imperfezioni, levica, previene la formazione di rughe, lenisce le irritazioni, rivitalizza la pelle, aumenta l'elasticità, non occlude i pori e lascia la pelle libera di respirare. Wow, quante cose. Poi, silicone base, quindi base siliconica, base per ombretti, base trucco cremosa, 12,10€ per la base siliconica, 8,40€ per la base, per il primer occhi, e 10,30€ per il primer viso. E sono questi qua. Poi, fondotinta, in diverse colorazioni, sono questi qua, 17,30€ per questo, e 16,40€ per l'altro, che però non fa vedere la boccettina. Ah sì, sono uno e questo, e l'altro e questo. Queste sono le colorazioni. C'è una luce pessima, devo dire. Poi non so come apparirà nel video, perché quando registro la luce sembra bella, ma poi quando edito la luce fa schifo, quindi non lo so. Ma c'è un tempo fuori, vabbè. Poi, correttore illuminante, 14,90€, e cipria minerale, 13,00€, l'altra cipria minerale, sempre 13,00€, e cipria minerale duo, 13,00€, e sono questi qua. Poi, cipria trasparente in polvere, 6,60€, cipria minerali in polvere, 8,30€, questi qua. Poi, ci sono le polveri illuminanti multicolore, a 10,20€, queste mi piacciono solo perché sono le guardate. A primo impatto, ovviamente. Poi, cipria illuminante in perle, 22,90€, cipria cotta per il corpo, per il corpo, sì, per il corpo, 14,90€, mai messa la cipria sul corpo, però c'è. cipria illuminante in piumino, 15,70€, poi, fondotinta, correttore cipria per le carnagioni molto, molto scure, 15,10€, 22,70€, questi sono i prezzi, sono questi qua, vedete, non sono adatti per niente alla pelle mia, perché appunto sono adatti per le ragazze e donne di colore. Poi, fard minerale, 9,40€, fard cotto, 10,40€, questi qua, poi, ombretto cashmere, 5,20€, questo qui, e queste sono le colorazioni, wow, dato giù il catalogo, da là, indietro, verrà un video lunghissimo, lo so, poi, ombretti minerali in polvere, 6,30€, queste sono le colorazioni, eh, ci sono anche di qua, questi qua, Poi, ombretti per carnagioni scure, 12,40€, e sono questi qua, queste sono le colorazioni, che secondo me vanno comunque bene anche per chi ha la pelle chiara, forse per chi ha la pelle scura danno un effetto migliore, non lo so, poi, ombretti minerali, 10,80€, sono questi qua, queste sono le colorazioni, Poi, 12 ombretti, 8,70€, questi qua, poi, mascara, 9,70€ per, eh, questo qui, 10,10€ per questo, e 10,40€ per questo, sono, eh, il New Dimension Lush Mascara, 9,70€, il 3 Step Mascara, 11,10, forse avevo detto 10,10, 11,10, scusatemi, volume, designer mascara, 10,40€, questi qua, poi, Tattoo, Brow Tint, evidenziatore per sopracciglia, 13,60€, Automatic Brow Pencil, 6,40€, ed è questa che, credo, no, niente, stavo dicendo la castroneria, comunque, matita automatica per sopracciglia, eh, due tinte, una un po' più cara, una un po' più scura, e poi, due rimodellanti cilieci sopracciglia, 11,10€, e sono questi qua, poi, eyeliner liquido, 9,30€, questo qua, matita automatica per gli occhi, 6,10€, sono queste qua, queste sono le colorazioni, ed è questa, del che vi dicevo, se non sbaglio, è quella del quale vi parlavo prima, la waterproof, poi, Sugar Lip Scrub, quindi, scrub per le labbra allo zucchero, 13,90€, ed è questo qua, poi, gel per labbra alla menta, 14,10€, gel per labbra al miele, 14,10€, tinta per labbra, 12,60€, poi, passiamo ai rossetti, rossetto, 10,40€, matita automatica per le labbra, 6,60€, qua ci sono le tinte dei rossetti, e qua, quelle delle matite, poi, Ice Lipstick, 9,40€, questo qua, penso sia un emolliente, rossetto effetto gloss, 9,50€, e queste sono le colorazioni, stavolendo un mito lunghissimo, lucida labbra alla frutta, 6,10€, sono questi qua, in queste colorazioni, strawberry, peach, cherry, banana, e raspberry, quindi, lampone, pesca, ciliegia, banana, e, fragola, credo, credo siano queste le, le, profumazioni, poi, lucida labbra, plum, plum, lip effect, lucida labbra, wet lip effect, 8,10€, lucida labbra, semplice, 8,10€, e sono questi qua, ci sono le colorazioni, del lucida labbra, poi, olio ammorbidente per cuticole, con nocciolo di albicocca, 5,90€, tutto 5,90€, quello che vi dico adesso, base trattante al calcio, indurente per unghie con polvere di diamante, base trattante alla seta, base trattante alla cheratina, tutto 5,90€, poi, crema cuticole e unghie, 5,20€, e sono questi qua, poi smalti, 4 sono le colorazioni, a 7,10€, e sono questi qua, poi, altri smalti, sempre a 7,10€, ci sono molte più colorazioni, e sono questi qua, luce levati, ok, poi, solvente per unghie, 4,90€, fissatore e asciugatore, spray per lo smalto, 6,90€, questi qua, il solvente e l'asciugatore, fissatore, poi, trucchi per bambini, kit, trucchi per bambine, 9,90€, smalto per bimbe, 7,10€, e sono questi qua, poi, correttore, correttore, struccante, 14,60€, lozione miscelante, struccante, 10,10€, e sono questi qua, poi, i vari pennelli, applicatore per ombretto, 5,20€, pennello per ombretti, 10,40€, blush, pennello per il fardo, per il fardo, e per il blush, 18,90€, wow, poi, pennello per fondotinta, 15,50€, pennello per cipria, 12,10€, poi, c'è un astuccio portapennelli, a 19,90€, e sono questi qua, poi, shampoo professionale per i pennelli, 6,90€, spray professionale per pennelli, 6,90€, di nuovo, ah, perché sono diversi, sì, giusto, ah, sì, uno shampoo, l'altro uno spray, vabbè, ci sono ragazze, poi, borsetta make-up, 7,60€, e sono questi qua, il telefono che suona, e niente, è finito il catalogo make-up, l'altro catalogo, ve lo faccio vedere meglio, in un altro video, se no, viene un video, troppo, 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 troppo lungo, quindi, a tra poco, ciao, un bacio,